L'unico modo per combattere ciò che vive nell'ombra è accendere una luce molto forte e quello che Barletta ha fatto nella serata di giovedì 30 giugno durante il quarto appuntamento di storie, libri e cucina rassegna organizzata dall'associazione Piazza Marina in quel pezzo di storia garantito dalla cornice di Porta Marina trasformata per l'occasione in una quinta teatrale con la collaborazione dell'amministrazione comunale e del presidio libera della BAT l'attore milanese Dario Leone ha omaggiato Giovanni Falcone con il monologo teatrale Boom! ha i piedi bruciati tratto dal libro Il piccolo Giovanni Falcone di Luigi Garlando di scena uno spaccato sulla vita di Falcone magistrato visto come un uomo dagli occhi degli uomini un racconto di due ore intervallato da centi di appassionata malinconia affiancati dai stanti di goliardia, quotidianità, ilarità, scoramento e dolore coinvolgendo i circa 400 presenti tantissimo calore nonostante appunto fosse una piazza quindi una situazione esterna non è un teatro c'era tantissima gente tutti c'è stata una bellissima standing ovation che per me è stata molto emozionante perché appunto io sono mezzo pugliese questa era la prima data che facevamo al sud e quindi è stato un bel inizio. Leone ha restituito alla folta platea un calidoscopio di Giovanni declinato in ogni sua sfaccettatura dall'amore per il mare di Mondello il suo mare fino alla presa di coscienza della serpe mafiosa in seno alla Sicilia fino alla rinuncia ai figli all'amore la perdita del mentore Rocco Chinnici di Antonino Caponnetto di tutti coloro che proprio come una vincente squadra di calcio realizzarono il primo pool antimafia e il primo maxiprocesso contro 475 mafiosi fino al 23 maggio 1992 quando Falcone perse la vita nella strage di Capaci eppure Giovanni ha vinto, ha vinto per tutti coloro che hanno capito che l'uomo è sempre uomo e non esistono uomini invincibili. Una grande emozione e anche forse una bella responsabilità però è una cosa molto bella, una cosa molto bella che facciamo da sette anni ormai, uno spettacolo che portiamo in giro da sette anni con due anni chiaramente di pausa per pandemia e in questi sette anni siamo stati in scena un centinaio di volte in Italia e all'estero ed è una cosa sempre molto emozionante perché ogni sera chiaramente il pubblico è diverso ma ogni sera ogni pubblico diverso restituisce in un modo diverso un grandissimo amore per questa persona. Storie, libri e cucina di Piazza Marina non si ferma qui, il prossimo e ultimo appuntamento è in calendario a Barletta il 5 luglio alle 21 con il giornalista Mario Giordano e il suo libro Tromboni, l'attualità nella politica in piazza per un dibattito a cielo aperto.